Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Sabrina e Fionei, Addio a domani, la mia incredibile storia vera, edizione in Audi. Ci sono storie che non possono essere presentate semplicemente riflettendo su quello che è lo stile narrativo adottato dall'autore, e questa è una di quelle, proprio perché, come indica il sottotitolo del libro, è una storia vera, una storia di sofferenza, di dolore. Ed è quella che vede come protagonista Gladys, una donna nigeriana che viene condotta in Italia con l'illusione di poter cambiare il proprio destino, e cambiare anche il destino della propria famiglia di origine. È la storia di una donna italiana che si troverà a crescere come una madre a tutti gli effetti, una bambina nata da una donna che è costretta a prostituirsi. Ed è la storia di Sabrina e Fionei, una bambina cresciuta da una donna italiana, e quindi con due mamme, due mamme, due mondi, due realtà, che si contrappongono e che si affiancano nel corso della storia che è stata narrata. In questa storia c'è la durezza della vita delle donne che sono costrette a prostituirsi, proprio sull'asfalto. Gladys viene proprio letteralmente buttata sulla strada. E anche nel momento in cui, in stato interessante, poi mette al mondo questa bambina, l'unico obiettivo dei suoi aguzzini è quello di guadagnare sulla sua attività. Quindi la bambina è un problema. C'è poi un mondo maschile. Il mondo maschile in questo libro fa venire fuori due figure in particolar modo. La figura di chi, amico di Gladys, quindi della madre costretta a prostituirsi, che decide di darle, pur non essendo il padre, il proprio cognome. E c'è poi il padre, un uomo che vive al di là della strada insieme alla sua famiglia, che decide di accettare la proposta, la richiesta più che altro di Gladys, di prendere in carico la propria figliola per poterla sostenere e allontanarla ad una situazione che per lei sta diventando pericolosa. E quindi questa figura maschile, questo padre, accetta non di adottare la bambina, ma di accoglierla nella propria famiglia e all'interno di questa famiglia, che poi arriverà la mamma italiana, perché è imparentata con questa famiglia e che si troverà a volgere il ruolo di madre a tutti gli effetti. Un libro sicuramente da leggere, che mette in evidenza un aspetto che io trovo particolarmente interessante ed è quello legato al fatto che nella vita le scelte hanno delle ripercussioni definitive e spesso l'amore non tende a modificare o a risolvere quelli che sono gli effetti delle scelte prese precedentemente. È il caso vissuto appunto da Sabrina e Fionet, che si ritrova ad avere due madri, a scoprire due mondi, ma l'affetto, l'amore che nutre i confronti di queste due donne sicuramente non riuscirà mai a colmare le differenze che quella scelta iniziale ha determinato nel corso del tempo. Per questo e per tantissimi altri motivi, come spesso vi ricordo, consiglio la lettura di questa storia davvero emozionante, che è un pugno nello stomaco, ma nello stesso tempo mette in gioco tantissimi sentimenti e tantissime emozioni. Quindi Sabrina e Fionet, addio, a domani, edizioni in Audi, alla prossima.